e questa sfida è la finale gigantosaurus dai stai buono da presentare tra il gigantosaurus e il serpente e ora cominciamo a guardare vincereia perché non mi fa niente con il più veleno non mi fa niente ma se troppo senza che bene mi intervierà c'è il consiglio con il suo stupino non mi fa niente aiuto lasciami non pensare mica che mi sarei a riso aiuto con la sistema giurata sono distrutto mi arrendo mi arrendo per favore il serpente e ne vada per favore di dosso va bene e codina codina sono distrutto codina vedi il vincitore è il mio di questo mini torneo è il gigantosaurus e ora faremo una foto col vincitore olè ha vinto olè olè sono super felice così starò sulle liste di tutto il mondo ciao a tutti ci ritroveremo nel prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al mio canale ciao ciao